Sono numerosi i turisti che hanno scelto il Friuli Venezia Giulia per trascorrere qualche giorno di vacanza tra Natale e Capodanno a Udine dopo due anni di pandemia. Si rivedono gli austriaci, gli alberghi puntano a last minute. Nelle principali piazze della regione per i festeggiamenti di San Silvestro, pochi fuochi d'artificio e tanta musica, giochi pirici a Trieste, Gorizia, Grado e Palmanova, Udine cambia location e format ad Aquileia, protagonista il fuoco. Aceria e Grini, importanti commesse in tutto il mondo per la Daniele di Butrio, ordine da 150 milioni di dollari dall'americana CMC, nostri impianti, commenta il presidente Benedetti, sono un concentrato di innovazione. E' caduto nel lago ghiacciato per aiutare il proprio cane, finito in acqua e andato in ipotermia, disavventura, sapada per un turista di Firenze, aiutato prima da un passante, tratto in salvo dal soccorso alpino. Sedita ancora rientra il gruppo di Delofeo che salterà anche l'ultima amichevole, quella con la Cremonese, il percorso personalizzato però non spegne l'ottimismo, il 10 dovrebbe farcela per la prima. Del nuovo anno Buonasera e ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. A Udine per le festività natalizie tornano i turisti austriaci dopo due anni di assenza a causa della pandemia. Le prenotazioni nelle strutture ricettive superano il 50% ma sono destinate ad aumentare nei prossimi giorni grazie alle prenotazioni last minute. A Udine anche per il periodo delle festività natalizie ritornano i turisti stranieri, soprattutto austriaci. Bloccati dal Covid per due anni stanno riprendendo le vecchie abitudini di fare sosta per un paio di giorni in città, per visitare i dintorni e al tempo stesso cercare ristoranti dove assaggiare soprattutto piatti tipici locali e successivamente trasferirsi in altre regioni. Natale e Santo Stefano sono trascorsi all'insegna della tranquillità, ci spiegano Laura Marine e Giuliana Ganzini-Quendolo, presidente e vicepresidente di una rete di 10 alberghi che si è costituita con la volontà di collaborare per rispondere alle problematiche legate alla pandemia, anche con il sostegno in Camera di Commercio e Confcommercio. Per i prossimi giorni, ma tutto può cambiare da un momento all'altro, in alcuni alberghi le prenotazioni superano il 50% dei posti disponibili e tendono a salire quotidianamente, mentre in altri si segnala il tutto esaurito fino all'epifania. Gli italiani costituiscono il 50% degli ospiti delle strutture ricettive cittadine, scelgono Udine soprattutto per ricongiungersi a familiari o per far visita ad amici, ci sono anche famiglie che scelgono la città per scoprire la regione. Una cosa è certa, sottolinea Giuliana Ganzini-Quendolo, ci vorrà ancora del tempo per rifarci delle perdite subite durante la pandemia. Adesso dobbiamo fare anche i conti con il rialzo dei prezzi in generale e delle bollette. I rincari apportati al costo del pernottamento sono più contenuti rispetto a quelli degli alberghi delle località turistiche e invernali. Per il futuro prossimo, conclude Giuliana Ganzini-Quendolo, le speranze sono riposte nel richiamo che avrà la mostra in casa Cavazzini e nella possibilità che in città si creino ulteriori iniziative che suscitino la curiosità dei turisti. Dunque sono numerosi i turisti che hanno scelto il Friuli Venezia Giulia per trascorrere qualche giorno di vacanza tra Natale e Capodanno. A Trieste ne abbiamo incontrati diversi, impegnati in un tour della città con le audio guide. Famiglia in gita per alcuni giorni o turisti di passaggio, il Friuli Venezia Giulia fa registrare numeri importanti e non solo nelle località della montagna. A Natale come sempre per quanto riguarda i gruppi non c'è un afflusso particolare naturalmente perché i grandi gruppi preferiscono rimanere a casa e li cominciamo a vedere naturalmente a partire da questa settimana a cavallo del Capodanno. Indubbiamente però ci sono tanti turisti, famiglie, singoli, insomma piccolissimi gruppi che sono un po' il sale di questo periodo e ci fa molto piacere. È un turismo che è cambiato un pochino, sicuramente i gruppi li cominceremo a vedere da primavera, le scuole cominciamo ad avere di nuovo, grandi richieste per le scuole a primavera, quindi speriamo che insomma questa pandemia sia stata veramente lasciata alle spalle. In piazza dell'Unità d'Italia Trieste in tanti girovagano con le audioguide o impegnati nei selfie di rito. Di Gallipoli, Puglia. È un viaggio bello lungo quindi? Eh sì. No, abbiamo visto Trieste e anche Gorizia e siamo andati anche in montagna. Andiamo a Napoli. Bosnia, Herzegovina. Do you like Trieste? This is our first time here and so far so good. From Greece. We are making a big trip all over Italy. Da Mogliano Veneto, ma di passaggio perché in realtà veniamo da Firenze. E a Udine festeggiamenti di Capodanno cambieranno location e modalità di intrattenimento. Da Piazza a Primo Maggio si trasferiranno in Piazza a Libertà e non ci saranno i fuochi d'artificio. In questo modo il Comune risparmia almeno 30.000 euro. Gli udinesi erano abituati a salutare l'anno nuovo da Piazza a Primo Maggio. Da quest'anno tutto cambia. Il cuore dei festeggiamenti sarà Piazza Libertà con l'allestimento delle strumentazioni per la musica sotto la loggia del Lionello. Si chiamerà Capodanno alla loggia con un DJ set di Radio Gioconda e quindi con la possibilità, per tantissimi cittadini udineri, piuttosto che i turisti, di poter festeggiare con la miglior musica il 2023 in una location prestigiosa come questo. Qua siamo in Piazza Libertà per cui c'è questa splendida stella qua di 10 metri che illuminerà la piazza e illuminerà anche la notte di Capodanno per tutti gli udinesi. A cambiare non sarà solo la location. L'amministrazione comunale ha voluto prima eliminare i fuochi d'artificio con i botti per non disturbare gli animali e ora anche quelli silenziati per risparmiare. Abbiamo tagliato circa 100.000 euro per quanto riguarda illuminazioni, piste di patinaggio e anche i fuochi d'artificio perché comunque noi volevamo mantenere il discorso degli fuochi d'artificio a bassa emissione acustica che vuol dire che non sono particolarmente spettacolari. L'appuntamento in piazza è per le 21.30 con la musica e l'intrattenimento garantiti fino a dopo l'una. Fuochi d'artificio a Capodanno solo in quattro piazze della regione mentre ad Aquileia si festeggerà con lo spettacolo del fuoco. Vediamo. Capodanno senza botti in gran parte della regione ma sarà la musica ad animare le piazze che daranno il benvenuto al 2023. Al bando fuochi d'artificio e botti sulla Repubblica di San Agnele del Friuli in ordinanza emessa il 23 dicembre il sindaco Pietro Valent fissa tutte le prescrizioni per le festività che resteranno in vigore fino al 7 gennaio. Niente fuochi d'artificio anche a Cervignano del Friuli dove in piazza Indipendenza si pattinerà a tempo di musica. L'amministrazione comunale infatti ha deciso di mantenere la pista di patinaggio aperta fino a luna di notte assieme al palco dove ci sarà musica dal vivo abbattendo così i costi del 75% garantendo comunque divertimento. Anche in piazza Fontana a Lignano-Serviadoro non verranno lanciati i fuochi d'artificio ma solo tanta musica darà il benvenuto al 2023. Show a ritmo di musica e divertimento senza fuochi d'artificio anche a Monfalcone dove il sindaco Cisinta ha emesso l'ordinanza a chiedere di accendere i botti sul territorio comunale. Il capodanno a Pordenone si festeggia in piazza 20 settembre musica dal vivo e casette in agastronomica aperte dalle 17 fino a dopo mezzanotte vietate bevande in contenitori in vetro e lattine come i petardi, botti e razzi. Non mancheranno invece i fuochi d'artificio lanciati dal castello a Gorizia a mezzanotte. Capodanno in piazza anche a Grado e a mezzanotte e mezza in Porto Mandracchio ci sarà lo spettacolo pirotecnico. In piazza Unità d'Italia Trieste il DJ set con spettacolo live poi a mezzanotte come da tradizione dal mall Audace partirà lo spettacolo di fuochi artificiali animati dal ritmo della musica. Anche a Palmanova ci sarà uno spettacolo pirotecnico in piazza Grande per dare il benvenuto al 2023. Oltre al tradizionale spettacolo di mezzanotte con oltre 3.000 fuochi colorati sparati dalla piazza dalle 21 sotto la loggia verrà proposto un momento dedicato all'arte e alla musica. Novità invece ad Aquileia con lo spettacolo del fuoco di mezzanotte. Per il primo anno si festeggia il capodanno nella splendida cornice del millenario complesso basilacale di Aquileia. Il fuoco propizzatorio per l'anno nuovo sarà protagonista di un'esebizione unica di musica e danza che apre il 2023. La cronaca è caduto nel lago ghiacciato per aiutare il proprio cane che era finito dentro ed è andato in ipotermia. Un turista di Firenze di 57 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi a Sappada dai soccoritori del soccorso alpino, espereologico e dell'elissoccorso. Un passante ha aiutato l'uomo porgendogli la propria cintura ma una volta fuori dall'invaso essendo rimasto in acqua per una decina di minuti il signore aveva un principio di ipotermia. L'equipaggio sanitario gli ha fornito una coperta e i soccoritori lo hanno ricondotto alla sua auto affinché potesse rientrare al proprio alloggio. Sempre nel pomeriggio a Piancavallo un uomo è morto a causa di un trauma da caduta sulle piste da sci. Fatale potrebbe essergli stato un malore, inutili tentativi di soccorso da parte del personale sanitario giunto con l'elicottero da Pieve di Cadore. Due uomini sono stati condannati in primo grado con l'accusa di rapina a mano armata. Uno originario di Udine dove vive l'altro. Sono considerati gli autori di diversi colpi messi in atto a Trieste e in Friuli. Il colpo più violento era stato compiuto ai danni di un 60enne triestino che era stato legato e picchiato nel 2017. Nel 2018 avevano poi cercato di rapinare un'anziana in provincia di Udine. Un uomo di 33 anni originario di Udine, residente a Trieste e domiciliato a Gradisca di Sonza, è stato condannato con il rito abbreviato a 5 anni di prigione, mentre il suo complice, sempre un uomo di 40 anni di Trieste e domiciliato a Udine, ha 11 anni e 10 mesi di reclusione con il rito ordinario per rapina a mano armata. Le complesse indagini della squadra mobile di Trieste coordinate dal PM Maddalena Kerger erano partite dal furto del 2017 nel capologo Giuliano e la polizia aveva ricostruito con un minuzioso lavoro di indagini gli spostamenti dei due, eseguendo anche delle intercettazioni grazie alle quali sono stati accusati di numerosi colpi messi a segno in case e associazioni di tutta la regione. La pistola giocattola era stata ritrovata a casa di LS e il 33enne nel corso di una perquisizione e i due erano stati arrestati alla fine del 2018. Perde il controllo dell'auto che si schianta contro il garrede e poi fugge. Caccia al conducente della macchina all'interno della quale c'erano due ragazze ferite in maniera grave che ieri sera ha causato un incidente in A4 nel quale sono rimaste coinvolte 10 auto. Ancora un incidente in A4. Il bilancio del sinistro è avvenuto ieri sera alle 20.30 nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana in direzione Venezia e di 10 persone ferite, due in maniera seria. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale di Gorizia che sta conducendo anche un'attività investigativa per individuare il conducente della Lancia Ypsilon che dopo il violento impatto colgar rail si è dileguato lasciando sole all'interno della macchina ridotte in un ammasso di lamiere due giovani entrambe residenti a Roma. Una dopo essere stata intubata è stata ritrasportata in gradi condizioni all'ospedale di Udine. L'altra è stata invece condotta in codice giallo con l'ambulanza all'ospedale di La Tisana. L'auto dopo aver sbandato verso sinistra ha impattato colgar rail. Nella dinamica a causa dei numerosi pezzi di carrozzeria che sono finiti sulla sede stradale sono rimaste coinvolte altre 10 macchine. I feriti sono stati assistiti sul posto da personale sanitario inviato dalla Sores. Nessuno verso in gradi condizioni. Attivati dagli infermieri della sala operativa Sores anche i vigili del fuoco per quanto di competenza. Se l'è cavata con qualche contusione il 25enne triestino che la scorsa notte si è schiantato con la propria auto contro la roccia della Galleria Naturale lungo la strada costiera di Trieste all'altezza di Duino. Può dirsi fortunato viste le condizioni in cui ridotta la Fiat Punto a bordo della quale viaggiava. L'incidente è avvenuto torno a Luna per cause che saranno determinate dai carabinieri della radiomobile di Eurisina. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Il giovane è stato estratto dall'auto dei vigili del fuoco e dal personale sanitario è stato portato per accertamenti al Cattinara. Voleva raggiungere Londra in aereo con documenti contraffatti. Non è mai partito e anzi è finito in manette. Protagonista della vicenda è un cittadino afgano di 35 anni. Il 16 dicembre in procinto di salire su un volo diretto a Londra dal Trieste Airport ha esibito agli agenti addetti ai controlli dei frontieri un documento del Lussemburgo. Risultato contraffatto. Il 35enne è stato così arrestato e portato al carcere di Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti da parte della polizia per stabilire l'origine del documento contraffatto. 500 parti in un anno all'ospedale di San Vito al Tagliamento. L'ultimo in ordine cronologico il giorno di Natale, quando è nato Angelo. Un parto che, come ha riferito il sindaco di San Vito, Alberto Bernava, sancisce la continuità del servizio e scongiura qualsiasi paventata sospensione. Oltretutto la mamma di Angelo non vive nel San Vitesi, proprio a confermare il fatto che, ha aggiunto Bernava, l'ospedale serve un'area molto più ampia del mandamento territoriale di riferimento. La convinzione del sindaco è che nel futuro la struttura ospedaliera di San Vito superiorgevolmente il limite dei 500 parti. Consideriamo il 2022 un anno particolare, evidenziato ancora a Bernava, soprattutto per il fatto che 30 mamme seguite a San Vito abbiano poi partorito a Pordenone per le procedure Covid-19. Avere un personale formato significa disporre di amministrazioni più efficienti che riescono ad affrontare le sfide del futuro. A dirlo l'assessore alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti, commentando il via libera della Giunta regionale al piano formativo per il 2023 a favore degli enti locali del Friuli Venezia Giulia. Assessore Roberti, approvati dalla Giunta i piani di formazione per il 2023 per il personale amministrativo del comparto unico. Sì, anche quest'anno in legge di stabilità abbiamo stanziato delle risorse considerevoli per quanto riguarda la formazione ad Anci, quindi tramite il suo braccio operativo che è Compa, la fondazione Compa, che si occupa di tutto quello che è la formazione e il supporto ai comuni del comparto unico del Friuli Venezia Giulia. Oggi in Giunta è stato approvato appunto quel piano formativo che prevede la formazione su tutti gli ambiti di interesse degli enti comunali, un programma di formazione che oltretutto viene aggiornato nel corso dell'annualità per seguire quelle che sono le esigenze degli enti locali. Avere un personale nel nostro comparto formato significa avere degli enti locali più efficienti che riescono ad affrontare le sfide del futuro. Ed in particolare in un periodo storico come questo è particolarmente importante visto che le ingenti risorse che sono state assegnate ai comuni sia da parte della Regione sia dallo Stato ma soprattutto le risorse del PNRR ci mettono davanti a una sfida decisiva per il futuro del Friuli Venezia Giulia. Avere del personale sempre pronto, formato, capace di cogliere queste sfide è un'opportunità per tutto il territorio regionale. Acciaierie green, importanti commesse in tutto il mondo per la Danieli di Butrio. Tra gli ultimi ordini quello da 150 milioni di dollari da parte dell'americana CMC. I nostri impianti, commenta il presidente del gruppo Gian Pietro Benedetti, sono un concentrato di innovazione e tecnologia a frutto di brevetti depositati negli ultimi 15 anni. Dall'America al vecchio continente, passando per Egitto, India, Cina e Giappone, la Danieli di Butrio fa incetta di ordini per impianti all'insegna del green steel. Acciaierie, spiega il presidente del gruppo Gian Pietro Benedetti, che traducono la sostenibilità in azioni concrete senza limitarsi ai proclami. Tra le commesse più importanti di questi giorni c'è quella dell'americana CMC, che conferma ancora una volta la fiducia a Danieli. È stato siglato l'antivigilia di Natale, l'ordine per il quarto impianto MicroMill Mida. La commessa vale complessivamente 380 milioni di dollari, 150 dei quali per le forniture da parte della multinazionale di Butrio. La prima mini acciaieria c'è stata ordinata dalla CMC, Commercial Metal Company, 17 anni fa, spiega Benedetti. All'epoca si trattava di un prototipo e il CEO di allora, Clyde Sealing, si assunse un rischio rilevante. La conferma di questi giorni da parte dell'attuale CEO, Barbara Smith, conferma la validità di questa tecnologia, che grazie all'innovativo sistema Digimelter-Danieli consente di produrre acciaio pulito con energia solare ed eolica. Gli Stati Uniti, prosegue il presidente del gruppo Danieli, sono molto sensibili a questo genere di innovazione, gli impianti in questione negli USA sono a questo punto otto. L'Europa si è dimostrata più lenta, il primo impianto sarà quello delle acciaierie Beltrame in Romania. Benedetti descrive gli impianti Mida come un concentrato di innovazione e tecnologia, frutto di brevetti depositati negli ultimi 15 anni. Oggi intanto, il presidente dell'India, Drupadi Murmu, ha inaugurato il laminatoio Danieli Wild Play Mill per lo stabilimento di Hyderabad della Midani, struttura di rilevanza nazionale dell'impresa del governo indiano. Sempre di questi giorni è la notizia che AQS, The Algerian Catari Steel Company, uno dei maggiori produttori di acciaio in Algeria, investirà con Danieli per migliorare ed implementare i propri impianti. La festa di Natale di PMP Industries Player Mondiale nei sistemi di trasmissione per veicoli industriali e agricoli quest'anno si è tinta di bianconero. Nel quartier generale di Coseano del gruppo industriale da 1100 dipendenti l'ospite d'onore è stato il direttore generale dell'Udinese Franco Collavino. Il presidente di PMP, Luigi Pozzo, ha donato a Collavino un diploma di ringraziamento per l'opera svolta dall'Udinese nel portare in alto e nel mondo il nome del Friuli. Fine dei lavori per l'ascensore che dalla Biblioteca Civica Ioppi sala il piazzale del Castello di Udine. La chiusura del cantiere è prevista entro fine gennaio. Sta per essere smantellato il cantiere dell'ascensore che da vicolo sotto monte conduce al piazzale del Castello di Udine. Entro la fine di gennaio l'elevatore dovrebbe poter essere posizionato definitivamente. Io credo che l'installazione, la ditta dice di poterlo fare entro gennaio, quindi poi sarà completato definitivamente. Il costo dell'opera, sappiamo, è oltre 600 mila euro. È importante averlo fatto proprio per completare il lotto intero che riguarda la biblioteca che è stata rifatta, Piazza Marconi a questo punto che è rifatta e anche i due vanni ascensori che completano l'aggiunta sulla corda del Castello che sappiamo non è solo questo ascensore ma è anche quello che stiamo predisponendo dalla parte di Piazza Primo Maggio. I lavori per il secondo lotto dell'impianto sono stati più complicati rispetto a quelli della prima parte. Per colpa dei costri materiali e anche dei tempi di consegna di questo secondo vano che non è uno normale, è piegato praticamente perché deve praticamente resentare il colla del Castello, quindi è particolare. Dismesso dall'ospedale di Udine, Albino Ottogalli, un anziano di 77 anni, si è trovato a casa da solo il giorno di Natale. Tenergli un po' di compagnia ai carabinieri che gli hanno pure preparato un piatto di pasta asciutta. Solo il giorno di Natale dopo essere stato dimesso dall'ospedale, Albino Ottogalli, un uomo di 77 anni che vive a Gradisca di Sedegliano, aveva un unico grande desiderio, avere qualcuno che gli facesse un po' di compagnia. non ha esitato pertanto a chiamare il numero della stazione dei carabinieri di Codroipo. I militari, capendo la situazione, si sono precipitati a casa sua. Non solo hanno trascorso un po' di tempo con lui, ma gli hanno pure preparato il pranzo. È bastato un piatto di pasta e qualche parola per rendere Albino l'uomo più felice. Io non ho famiglia, non ho nessuno. È stato insolito, è graditissimo per me, che ho avuto la fortuna di conoscere gente dell'arma, che hanno fatto una cosa incredibile, che io non smetterò mai di dimensionarla, perché quel carabinieri che è venuto qua a prepararmi la pasta asciutta è una cosa grandiosa. Io volevo poter parlare con qualche persona, cioè sentirsi meno solo. Certo. Invece per caso ho composto questo numero e da lì è partito il mio momento fortunato. Un gesto che è venuto dal cuore, come ha spiegato il comandante della stazione, Luca Cupin. È capitato il giorno di Natale, quindi per quanto possa aver arricchito la giornata del signor Albino ha arricchito anche i nostri cuori, perché è una situazione che per fortuna non capita spesso, ma quando capita ovviamente arricchisce ognuno di noi quando la affrontiamo nel giusto modo. Il carabinieri scelto Cangelosi Gaetano è sempre effettivo alla stazione carabinieri di Codroipo, che io comando, e lui è quello che si è messo al fornello a preparare la pasta al signor Albino. Grande festa a Udine per i cento anni di Blandina Candolo, originaria di Pozzuolo, ma residente a Udine. L'abbiamo raggiunta a casa, dove assieme alla sua numerosa famiglia ha ricevuto la visita del vice sindaco Michelini e del sindaco di Pozzuolo Lodolo. I suoi segreti? L'amore per suo marito e il ballo. Nata prematura di sei mesi, è sempre stata la più minuta della famiglia, per questo è soprannominata la picciule. Blandina oggi compie cento anni e festeggia assieme a tutta la sua famiglia, due figlie, due nipoti e quattro pronipoti. Ha iniziato fin da giovane a lavorare, da lei stessa deve denziarlo. Non era mai a casa, anche la domenica. Esatto. Sempre lavorato. Sempre lavorato. Io ero in undici fratelli e sono l'unica che sono vissuta, tutti morti. Ma la sua vera forza sta nel ricordo del marito, il suo grande amore, con il quale partecipava a gare di ballo di coppia, risultando spesso vincitori. Il marito, sono sette anni che mi manca. Credo che non esiste più uno come lui. Quando si arrivava erano i romagnoli, che arrivano i ballerini. Venivano giù dall'orchestra, venivano a baciarsi proprio. Una coppia come voi non si trova, dicevano. Veramente sono orgoglioso di essere presente ai cent'anni della signora Blandina, perché il comune di Udine ha diversi centenari. Però è un piacere essere qui, perché lei è testimone di quello che ha vissuto, di quello che ha passato, e soprattutto si ricorda tutto, quindi vuol dire che è in piena attività. Gli faccio i complimenti di mantenersi così in salute e di star bene ancora alla nostra originaria di Pozzuolo, del Friuli. Noi le facciamo tanti auguri. Grazie. Grazie. E anche lei, stia bene. Rientra in parte l'emergenza al pronto soccorso di Udine, dove comunque gli accessi restano elevati. Da domani riprende regolarmente l'attività dei hospital al padiglione 8. Sono anche stati liberati i posti in medicina d'urgenza occupati dai pazienti cardiologici che ritornano nel reparto dedicato. Dopo l'afflusso imponente registrato una settimana fa, nei giorni delle feste, gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Udine si sono ridotti, pur restando numerosi, anche a causa dell'influenza. Il 21 dicembre era stato attivato il piano di emergenza con la riduzione delle attività del dei hospital per spostare in questo spazio, al piano terra del padiglione 8, i pazienti del pronto soccorso. Questa mattina, spiega Luca Lattuada, direttore medico del presidio ospedaliero di Udine, abbiamo iniziato a liberare i posti letto, trasferendo i ricoverati nella zona del padiglione 5 dove era collocata l'RSA. Qui sono disponibili 21 posti letto di posta cuzie che in prospettiva diventeranno 26. Da domani intanto, riprenderà regolarmente l'attività di dei hospital al padiglione 8. Una seconda manovra ha consentito di liberare la medicina d'urgenza dai pazienti cardiologici che ritornano nel reparto dedicato, riaperto dopo il rientro al lavoro del personale, rimasto a casa per il Covid. Lattuada conferma che le sindrome influenzali hanno contribuito ad appesantire la situazione al pronto soccorso. L'ospedale, spiega, diventa l'unica soluzione nel caso di persone anziane con sintomi che vivono sole o quando non possono essere seguite dalla badante positiva al Covid. Si tratta di ricoveri non necessari in senso stretto, ma per i quali non ci sono alternative. E considerata la percentuale di persone anziane in Friuli, Venezia e Giulia, i casi come questi non sono rari. Quanto ai contagi tra il personale, la situazione sta migliorando, ma gli equilibri sono precari. Siamo misurati, afferma Lattuada, basta l'assenza di due infermieri per costringerci a ridurre i posti letto, altrimenti non saremo in grado di coprire i turni. Il direttore medico sottolinea infine lo sforzo fatto dal personale che continua a non risparmiarsi per garantire il servizio ai cittadini. Numeri importanti anche nel pronto soccorso di Trieste nel periodo natalizio. Si segnala in particolare la presenza di pazienti colpiti da virus influenzale. La struttura è sotto pressione e il personale cerca di fare i miracoli. Anche il pronto soccorso di Trieste e i dati degli accessi sono oltre la media del periodo complice all'influenza che sta avendo un picco importante da metà dicembre in poi e che, con le festività, potrebbe vedere un aumento dei casi tra Capodanno e l'Epifania. I dati nazionali vedono comunque una curva del contagio che sta calando. Il pronto soccorso del Maggiore di Cattinara, del capologo Giuliano, dove c'è un'età elevata della popolazione, stanno avendo la consueta criticità che negli anni pre-pandemia si registrava tra febbraio e marzo. I casi che si presentano alla struttura sono di anziani che necessitano di ossigeno a causa del virus influenzale. Asugi, dal 20 dicembre, aveva avviato l'ospedale di comunità, il primo in regione, in convenzione con l'ITIS, una struttura residenziale per anziani di Trieste, dove sono stati creati 20 posti letto, altri 20 possono partire in tempi brevi, alcuni dei quali già occupati, per garantire assistenza sociosanitaria ai tanti pazienti che prima si rivolgevano proprio al pronto soccorso, nonostante non ci fosse una reale emergenza. All'ITIS verrà garantita l'assistenza sociosanitaria, mentre l'aspetto clinico sarà cura del personale di Asugi. Salvata da alcuni passanti, dai carabinieri, una maialina tailandese di pochi mesi rischiava di essere investita dalle macchine lungo la ponte bana a Tavagnacco. Ora l'animale si trova sicuro, nel centro di recupero fauna selvatica di Campoformi del gestore la chiamata Rebecca. Rischiava di essere investita da qualche macchina che sfrecciava sulla ponte bana. Una maialina tailandese di pochi mesi scappata o abbandonata da qualcuno ha invece trovato chi si è preso cura di lei. Un fatto curioso quello che si è verificato a Tavagnacco, dove per salvare l'animale impaurito si sono mobilitati numerosi passanti. Eppure i carabinieri di Feletto Umberto che con l'aiuto dei colleghi del Radiomobile di Udine sono riusciti a catturarlo. Ora la maialina si trova al sicuro nel centro di recupero fauna selvatica di Campoformito. Il gestore Maurizio Zuliani l'ha colta insieme ad altri animali e ha deciso di chiamarla Rebecca. Ha già cominciato a mangiare quindi ha già cominciato a prendere anche il possedimento di quello che potrebbe essere la sua nuova casa. Io mi auguro comunque che il padrone di questo piccolo animale sicuramente che è un animale d'affezione se lo venga a riprendere se avverto anche così pubblicamente prima di passare però da noi deve passare dai carabinieri che hanno fatto il verbale di affidamento. Appuntamento da non perdere questa sera in diretta dalle 21 con lo scrigno di Daniele Paroni sulla storia dei presepi in Friuli. In studio saranno presenti appassionati in arrivo da diversi territori guidati dal maestro presepista Claudio De Lucchi l'intrattenimento musicale sarà curato da un trio abbinato ad un personaggio da non perdere capace di suonare più strumenti contemporaneamente dunque da non perdere la puntata in diretta dalle 21 dello scrigno noi ci fermiamo qui subito dopo la pubblicità appuntamento con le notizie sportive grazie per l'attenzione buona serata grazie per la visione